ciao a tutti e ben trovati sul mio canale eccomi con un nuovo video tutorial questa volta dopo una serie di video dove vi facevo vedere come fare delle scatoline per i bijoux intitolata appunto scrap bijoux finalmente un nuovo modulino questi orecchini li ho chiamati desi sono veramente molto carini fatti con biconi da 3 mm rocaille 11.0 e 15.0 e delle goccine piccole della misura 8 da foro a foro e la larghezza 6 mm penso che potete provare anche con delle goccine leggermente più grandi magari nell'ultimo giro che abbraccia la goccina potreste semplicemente aggiungere una rocaille o due comunque vedete voi non ho provato quindi io avendo queste ho fatto con queste e il risultato devo dire che è abbastanza rigido l'orecchino come piace a me insomma faccio di tutto sempre per ottenere questo effetto ecco qui vedete queste questa è stata la prima versione dove ho fatto con l'incastro natura ho fatto con i biconi da 3 mm mentre invece l'ultimo giro ho messo i cipollotti penso siano 3x2 quindi volendo se non avete i biconi potrete tranquillamente sostituirli con questi cipollottini sia per l'incastro natura che per il giro finale però onestamente ecco qua le due versioni vi faccio vedere una piccola differenza che rende l'orecchino un po' leggermente diverso e vi spiego qual è molto semplicemente alla punta della goccia o qui ho utilizzato le rocaille tutte dello stesso colore mentre invece qui ho utilizzato in punta la rocaille in avorio e il resto colorate quindi come potete vedere nel complesso da un leggero effetto diverso vi consiglio le super duo che sono sotto le rocaille qui dopo l'incastro natura sotto le rocaille 15.0 di utilizzare un colore a contrasto con le rocaille 15.0 in modo che vadano in evidenza vedete che si vedono è così da fare questo effetto quindi giocate molto con i colori e con i contrasti perché quello chiaramente fa il 70 per cento dell'orecchino la riuscita di un orecchino bene vedete qui ho aggiunto le monachelle in questo modo qui invece ho modificato la monachella inserendo un bicono con la rocaille bene bando alle ciance passiamo al materiale e al video tutorial ecco che vi faccio l'elenco dei materiali che serviranno per il tutorial di oggi per il modulo allora ci vorranno 10 goccine della misura e io le ho presi in questa colorazione bianca e le ho trovate facilmente dai pakistani dai negozietti loro oppure anche al mercato quindi di facile reperibilità per lo meno spero allora da foro a foro sono 8 mm invece dalla parte appunto la larghezza sono 6 mm quindi 8 per 6 mm la misura delle goccine poi per l'incastonatura utilizzerò due colori di biconi tipo svaroschi ma non sono svaroschi da 3 mm nel caso in cui non abbiate questi biconi potete tranquillamente utilizzare come ho fatto in questo modulo vabbè per l'incastonatura utilizzato i biconi mentre invece nella parte finale ho utilizzato i cipollotti comunque saranno 3x2 penso più o meno quindi sono facilmente sostituibili nel caso in cui non non reperite i biconi però siccome a me piaceva molto l'effetto con il bicono da più luce e quindi più particolare e allora dove li ho presi questi da ting ting quindi per chi non lo sapesse adesso il rivendito il rivenditore ebay tanto amato da tutte noi perlinatrici vende anche i biconi da 3 mm e devo dire che mi trovo molto bene perché sono molto regolari quindi assomigliano molto agli originali e quindi sono veramente felice di questo acquisto anzi vi faccio vedere gli altri colori che sono riuscita anche a prendere che li ho qui sotto mano che ho rifatto una bella scorta prima di natale mi sono arrivate tutte le cosine prima di dicembre ecco l'ho preso anche in questa colorazione verde molto luminosa in questo verdone bottiglia bellissimi e in questa sono molto simili agli svaroschi originali devo dire molto fedeli in questa versione un po' lilla viola però sul trasparente adesso non ricordo i nomi scusatemi dei biconi originali perché sono comunque simili e anche in questo colore qui quindi sono riuscita a prendere queste colorazioni e davvero mi trovo mi trovo bene ho provati per la prima volta facendo questo modulino desi e mi sono trovata benissimo perché sono molto molto regolari quelli che ho aperto sono questi tre quindi per nel primo modulo in questo colore qui ho utilizzato questa colorazione per fare l'incastonatura e invece in quest'altro modulino del tutorial utilizzerò questa per l'incastonatura e questo nel giro finale bene mi sono dilungata tantissimo poi tra le altre cose da tinting mi sono arrivati anche questi rivoli di questo colore bellissimo questo blu io lo adoro è fantastico devo dire che negli ultimi periodi amo molto il blu quindi lo utilizzo tantissimo fa una luce bellissima è veramente molto bello questo blu è differente da quest'altro che va un po' più sul colore petrolio sempre da tinting vedi sono due blu vedete sono due blu differenti anche questo sotto mano faccio vedere eccoli qua state il rumore delle bustine non le ho tirati fuori prima perché non avevo pensato insomma di tirarli fuori per farveli vedere ma visto che ci sono lo faccio come potete vedere ecco vediamo un po sposto un po la luce vedete sono veramente belli 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 fatti bene io non faccio di solito recensioni anche di rimenditore non le ho mai fatte però devo dire che mi trovo davvero bene molto serio preciso e consigliatissimo bene poi continuiamo e quindi questo il rivoli questo questo verde blu petrolio è del primo del primo orecchino quello che ho fatto in origine invece nel nel tutorial di oggi utilizzeremo quest'altro blu bellissimo davvero stupendo ne sono innamorata poi rocaille 15 0 utilizzerò questo colore sia per fare l'incassonatura sia per fare il giro finale qui vedete poi rocaille 11 0 utilizzerò due colori questo sarà il colore principale sempre miuchi ovviamente perché devo specificarlo anche le 15 0 sono miuchi perché cambiano un po le misure con le toho quindi potrebbe non ridare quindi vi consiglio assolutamente di utilizzare le miuchi questo è il codice si chiamano galvanize magenta ed è bellissimo questo colore poi ho utilizzato siccome ho fatto da cadoro finalmente anch'io degli ordini mi hanno mandato gratis e questi sono della toho in questo color crema opaco bellissime bellissime e queste le utilizzerò nella punta vedete qui nella punta proprio per dare un effetto un pochino differente da questo che è più tondo ok vi faccio sempre il confronto poi super duo bellissimo bellissimo colore anche questo pastel burgundy questo è il codice preso da biperline poi 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 ago tulip misura un attimo che lo rivedo 11 misura 11 io utilizzo sempre questi aghi qua mi trovo benissimo perché sono molto sottili passano nei fori più piccoli anche delle delle 15 0 poi nell'incastonatura utilizzato siccome sono dei biconi trasparenti per non far vedere il filo ma siccome mi sta per finire non l'ho utilizzato per tutto l'orecchino quindi per l'incastonatura ho utilizzato il far line da 12 mm questo qui crystal perché non si vedesse lo tengo molto a caro questo filo perché mi è costato abbastanza e lo utilizzo solo in certe situazioni però per il resto utilizzo sempre il il fuse performance del suffix e mi trovo benissimo acquistabile da decathlon sempre 16 mm questo è il filo che adopero per tutte le mie creazioni quasi quindi benissimo bando alle ciance passiamo al tutorial allora passiamo all'incastonatura dei rivoli partendo da 10 biconi da 3 mm alternate a 10 rocaille 11 0 userò questi in color magenta poi chiuderemo a cerchio il filo come la maggior parte di voi sapete però lo dirò molto velocemente chiudendoci a cerchio in questo modo ripasseremo senza mettere nulla nel lago in tutto il filo una volta usciti chiuderemo con un paio di nodi la lavorazione una volta chiuso e fatti i due nodi entreremo in un paio di biconi uscendo magari da una rocaille e tiro un po' il filo in modo tale che il nodino si va a posizionare all'interno del bicono da 3 mm allora quando nominerò il bicono è sempre inteso che è da 3 mm come vi ho detto inizialmente quindi non lo specificherò ogni volta e siccome voglio essere sicura io faccio sempre questa cosa quindi rifaccio un nodino in questo modo magari anche due per essere più scrupolose quindi facciamo due nodini di nuovo e ripasso ancora tirando bene il filo ripasso ancora in altri due biconi e sbuco da una rocaille 11 0 fatto questo possiamo tagliare l'eccesso di filo che il nodino sarà all'interno del bicono e possiamo proseguire allora inseriremo adesso nel lago 5 rocaille 15 0 e io sto usando questo colore rosa quindi 5 rocaille 15 0 e scavalcheremo il bicono inserendoci nella rocaille 11 0 successiva questo lo dobbiamo fare per tutto il giro completato il giro ci troveremo ad uscire da 11 0 e andiamo senza mettere nulla nel lago a posizionarci nella terza rocaille 15 0 quindi quella in punta da qui andremo ad inserire 5 rocaille 15 0 e ci andiamo poi ad inserire nella rocaille centrale del giro successivo quindi 5 rocaille 15 0 e da qui ci andremo ad inserire in quest'altra rocaille centrale facciamo questo per tutto il giro allora inserendo l'ultimo giro ci troveremo a questo punto da qui dobbiamo inserirci di nuovo nella rocaille centrale senza mettere nulla nel lago quindi nell'ultimo giro che abbiamo fatto quindi in quella centrale nella terza e inseriamo 3 rocaille 15 0 per riposizionarci di nuovo in una rocaille centrale del giro successivo nella terza quindi quest'altro giro sono 3 rocaille 15 0 e ci andremo ad inserire nel gruppo successivo del 5 nella terza un attimo che non vedo ok qui nella terza centrale facciamolo per tutto il giro per poi posizionare all'interno il rivoli e iniziare a stringere ecco finito il giro ci troveremo i rivoli a testa e giù e dovremo ripassare all'interno di tutte le 3 rocaille dell'ultimo giro che abbiamo inserito quindi ci inseriamo nelle 3 rocaille saltiamo la rocaille che unisce i due giri quindi passiamo direttamente alle 3 rocaille successive in modo tale che si stringerà bene il lavoro quindi facciamo bene questo per 2-3 volte fin quando il filo vi basta e vi entra in modo tale da stringere bene finita l'incassonatura ho sostituito il filo quindi ho messo il suffix lo vedete infatti dal colore verde e mi andrò a posizionare da questa rocaille quindi dal primo giro che abbiamo fatto sulla terza quindi in questa centrale da qui andremo ad inserire nell'ago una super duo 3 rocaille e poi ci inseriremo facciamo scorrere alla base dell'incassonatura ci andremo a rinserire nel secondo foro della super duo quindi entriamo da un foro inseriamo 3-15-0 e usciamo dall'altro foro e ci inseriremo nella rocaille centrale del primo gruppo successiva questo passaggio mi piace tanto in questo modo lo facciamo per tutto il giro finito il giro ci troveremo in questo modo e sbucheremo dalla rocaille 15-0 tra le super duo vedete tra le super duo adesso ci andremo ad inserire senza mettere nulla nell'ago nella super duo nelle 3 rocaille 15-0 che formano questo archetto e ci rinseriamo nella super duo uscendo da questa parte quindi usciamo da qui cioè entriamo da qui facciamo insieme entriamo nelle 3 rocaille 15-0 sopra la super duo e usciamo di nuovo dalla super duo adesso andremo a posizionare le goccine da questo punto in poi allora in che modo allora prendiamo la cucina e inseriamola nell'ago in questo modo in modo che la parte più stretta vada dove sono le super duo e la parte più bombata vada dall'esterno allora poi metteremo siccome voglio fare questa differenza questo contrasto metterò le rocaille queste color avorio in panna e saranno queste qui alla cima della della goccina quindi inseriamo la goccina la rocaille dell'altro colore se volete fare il contrasto altrimenti utilizzate sempre lo stesso colore e ci rinseriremo saltando la rocaille che abbiamo appena inserito nella goccia in questo modo quindi stringiamo fino a far arrivare sotto la goccia allora la goccia adesso la dobbiamo far posizionare nella parte del retro del lavoro quindi devono andare verso il basso infatti vi troverete tutte le gocce che andranno a finire in basso ma non vi preoccupate anche se saranno muscette poi troveremo il modo per risistemarle da qui ci dobbiamo andare ad inserire nella super duo un attimo che vi faccio vedere bene perché ho perso un po' l'inquadratura allora ci troviamo qui ci inseriamo nella super duo nella parte di sotto successiva per poi ripassare di nuovo nelle 3 15 0 sopra la super duo e uscire dal secondo foro in basso della super duo in questo modo da qui rifaremo lo stesso identico passaggio che abbiamo appena fatto e lo facciamo per tutti i giro quindi vi raccomando quindi riusciremo di nuovo in questo modo qua dalla super duo vi raccomando fate capitare tutte le gocce nella parte di dietro dell'incassonatura non nel davanti quindi devono capitare nella parte retro ecco come ci troveremo a fine giro vi faccio vedere con tutte le goccine verso il basso in questo modo non c'è nulla di sbagliato non vi preoccupate va benissimo così adesso ci troveremo ad uscire dalla super duo ci inseriremo nella seconda roca 15.0 da qui andiamo ad inserire nell'ago 5 roca del color magenta 11.0 quelle che abbiamo utilizzato anche per l'incassonatura quindi 5 roca quindi cambiamo il colore sarà il colore principale perché quello in avorio l'abbiamo utilizzato solo nella punta ci andiamo ad inserire appunto nella roca avorio della punta della goccina in questo modo tiriamo il filo rinseriamo altre 5 roca 11.0 1.2 3 5 e ci andremo a da qui rinserire nella centrale del gruppo da 3 sopra la super duo 15.0 nella centrale 15.0 in questo modo attenzione a non fare intrecciare il filo si andranno a posizionare meglio le nostre gocce questo lo dobbiamo fare per tutto il giro quindi rifaccio un'altra volta insieme a voi quindi 5 4 e 5 ci andremo ad inserire nella nella roca il color avorio sopra la goccia e inseriamo altri 5 quindi proseguiamo per tutto il giro ci vediamo a fine giro finisco ad inserire ci posizioniamo qua nella centrale il gruppo da 3 ok facciamo per tutto il giro ecco a fine giro cosa ci troveremo incomincia a intravedersi la nostra margheritina ci troveremo ad uscire dunque dalla roca 15.0 dalla seconda quindi senza aggiungere nulla nel lago andremo a salire nelle roca il del primo giro che abbiamo inserito nelle 5 aiuto ecco qua quindi ci andremo ad inserire nelle 5 nelle ci dobbiamo posizionare dalla punta a scendere verso giù nella seconda quindi dalla punta quindi dalla rocaille in color avorio salteremo altre 2 rocaille e usciamo da qui e adesso andiamo a posizionare i biconi dell'altro colore quindi uscendo da qui ci dovremo rinserire nelle penultime 2 qui prima della rocaille in color avorio ce ne sono 2 rocaille quindi prima in quella avorio in questo modo se andremo a posizionare di nuovo quindi usciamo nelle prime 2 rocaille del gruppo da 5 e inseriamo il bicono per inserirci nell'ultime 2 rocaille del gruppo da 5 e questo lo andremo a fare per tutto il giro non tirate troppo troppo il filo perché nel mio primo paio di orecchini ho notato una leggera differenza allora questo è stato il primo e non ho tirato il filo e mi è uscito bello dritto nel secondo non mi sono resa conto ho tirato troppo in questo ultimo passaggio che vi sto facendo vedere e si è incurvato poi avendo chiuso la lavorazione me ne sono resa conto dopo e vabbè e quindi diciamo che c'è questa leggera differenza tra i due si nota ma non eccessivamente quindi eccessivamente quindi non non tirate troppo vedete si andrà un po' ad incurvare insomma non va bene non tirandolo verrà così quindi finiamo il giro e ci vediamo alla fine giro ecco a fine giro come ci troviamo vedete non avendo tirato il lavoro è abbastanza lineare dritto ben aperto insomma non si incurva quindi mi trovo ad uscire dalla rocaille qui centrale mi rinserisco di nuovo nelle due rocaille successive per andare a fare il cappietto non abbiamo ancora finito quindi questo è il penultimo passaggio farò prima il cappietto per poi fare il passaggio finale andrò ad uscire dal bicono e inserisco le 15 0 ne inserisco 9 anzi scusatemi ne inserisco 8 quindi sono arrivata 3 6 7 8 perché poi andremo a fare la punta successiva e mi vado a rinserire allora da qui esco mi rinserisco dall'altro lato quindi rientrando nel bicono in questo modo poi giro un attimo che mi è più comodo mi rinserisco nelle prime 4 perline senza mettere nulla nel lago nelle prime 4 e inserisco un'altra rocaille 15 0 per fare la punta a questo cappietto a forma di V in questo modo rientriamo nel bicono e poi ripassiamo in tutte le perline senza aggiungere nient'altro quindi rigiro di nuovo per comodità e ripasso in tutte le perline senza mettere nulla nel lago tutte quante per rigidire per rigidire questo questo cappiettino ecco qua da qui mi vado di nuovo a rinserire nel bicono e in questo modo ho formato il cappiettino a forma di triangolino come volete voi allora da qui dobbiamo adesso posizionarci dicevo qui prima di posizionarci per fare l'ultimo giro volevo chiudere con un paio di nodini questo ultimo passaggio dove abbiamo fatto il cappietto da qui mi vado a inserire nella 15 0 sopra alla super duo andando nella terza in questo modo quindi vedete mi troverò ad uscire qui nella terza super duo da qui allora andremo ad inserire nel lago 3 rocaille 15 0 quello che abbiamo utilizzato finora e mi vado ad inserire nel bicono di partenza proprio dell'incassonatura esco e rinserisco tirando bene il filo rinserisco nell'ago altre 3 e mi rinserisco nella prima rocaille 15 0 che mi trovo davanti sopra la super duo per poi riuscire nella terza e rifare la stessa cosa in questo modo rifacciamo l'insieme 3 rocaille 15 0 questo è proprio l'ultimo passaggio mi inserisco nel bicono in questo modo tiro bene il filo vedrete che automaticamente diventerà rigida la lavorazione e si posizioneranno ancora meglio le goccine rientriamo nella prima rocaille sopra le super duo scusate lapsus freudian in questo modo e riusciamo anche nella terza così proseguiamo per tutto il giro per completare bene il video tutorial è terminato spero che vi sia piaciuto questo è il mio nuovo modulino se vi è piaciuto pollice in su condividete con i vostri amici e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e grazie perché state rispondendo in tantissime in modo positivo insomma siete veramente molto affettuose e sempre molto carine e gentili con me quindi ringrazio a tutti un bacione immenso e ci vediamo al prossimo video tutorial se non farò un video prima di natale comunque vi faccio tanti auguri di buon natale ciao a tutti